Cari ragazzi, bentornati Oggi ci chiamo a David Diver, questa è la mia primissima partita Quindi non so veramente nulla, lo scopriamo insieme E sarà molto divertente vedere che cosa succede Ah, siamo noi sulla spiaggia Cosa potrebbe mai andare storto? Con i piedi per gli amanti del fetish Un paguro Ciccio Gamer was here C'è qualcuno che ci chiamo al telefono Pronto, vabbè Che deve fare, voglio un po' di sushi Che dobbiamo fare qua C'è penso io Ah, è molto ciccio Sembra ciccio quando non era Aveva perso peso, quindi tutta roba È molto simpatico il tipo Ciao Mirko, ti voglio bene Intanto non lo vedrà mai questo gameplay Root beer Root beer Dovrebbe essere la beer a lo zenzero Quindi noi prendiamo un aereo per trasferirci in qualche tipo di isola Da sogno Però noi stavamo già al mare Quindi già stavamo molto bene effettivamente È la versione 1.00980.steam Probabilmente ci hanno messo l'estensione di ogni piattaforma Anche se non so se ci sia su altre piattaforme Vabbè, ho capito, eh Lo budget, quello che vuoi Però sti titoli di testa Mannaggia a voi Adesso mi aspetto tanta roba, eh Mi avete fatto perdere secondi importanti della mia vita Quindi adesso dovete veramente dare il massimo Paolo mi ha detto che è a metà tra Moonlighter e qualcos'altro Solo che si fa Sardivale e tutta quella roba là Però vediamo Quindi dobbiamo prendere il suo scivente Siamo un sub praticamente Dobbiamo stare all'interno di questo giant blue hole Questa buca gigante blu Che non abbiamo mai visto Ah, quando entriamo a giant blue hole Tutta la parte giù Va cambiando Ed è un'incredibile business opportunity Ok, va bene Quindi diciamo che questo è un tutorial Sushi bar Mi piace che inizi molto velocemente Quindi noi siamo Sushi bar By the blue hole Black and white snapper An aggressive carnivore with black eyes Ok Che bella Grafica molto, molto piacevole Lt you can move quickly Remember that this speed Ah ok Quando vai più veloce Cioè scende più l'ossigeno Look like your skill are intact You move Are as nimble as fresh water and snail Ok, abbiamo un coltello Che possiamo stare così Smooth and quick And finally You have forgotten how to use our Okay Ok L'arpio non abbiamo usato da tanto tempo Premi Ok 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 Abbiamo una Ah ok Scusami Ah Ah Non possiamo Non mi piace molto il sistema di Di tiro Non ne possiamo prendere Non ne possiamo prendere Possiamo far filotto Ma probabilmente Più andiamo in basso Più possiamo fare filotto Ok Perfetto Adesso dobbiamo andare A fare il sushi Ho un amico sushi chef Perfetto Praticamente pesci pescati Vengono utilizzati per Per ristorante Ok Quindi di qui Andiamo al sushi bar Il nostro boss Non fa un cazzo Noi guidiamo Ehi Baco Banco Are we all ready to open Quindi banco O bancio Banco lo chiamano Ok Quindi siamo pronti per aprire Ci conosciamo con Con sushi chef Tuna belly Eel Che dovrebbe essere morena Si orci Non so che cosa sia To think To think about it Make my mouth water Just as Meet yourself Quindi Allora Questo è Un po' Fa un po' Il Come si chiama Il jazz Il jazz Della situazione Soul Parla di anima Ci devi mettere l'anima Per fare il sushi Ok Che succede? C'è un terremoto Ma penso che venga dall'acqua Quindi Ok L'interno del locale È andata Puttane Spendono Get Disse Rentre Ripare Cost Doing Business Disstate Ok Perfetto Praticamente partiamo Con il ristorante rotto E dobbiamo recuperare i soldi Per Riaggiustarlo Ok Il giorno Prendiamo i pesci Fondamentalmente la sera Ci prepariamo per venderli 7 fish Ok Dobbiamo fare 100 soldini E dobbiamo prendere 7 pesci Credo che sia Complicato E sotto Ci raccontano qualche consiglio Iniziamo Iniziamo benissimo Non so se si può cambiare il Mi dispiace per te Piccolo Porca puttana Ho sbagliato Lo devo diventare pratico Perché Che il sistema con Il sistema con Non potevi Porca puttana Perché io Pensavo che Lasciando A Fondamentalmente Lasciando A Si poteva Sparare Automaticamente Ma non è così Volevo far Filotto Volevo far filotto Molto ben fatto Molto ben fatto Azzù Quindi più si va giù Escape pod Escape Escape To your boat As quick As possible Check your surrounding First Ok Ok Da qui si può Devevo scalare questo Ok Volevo prendere Un po' di pesci neri Ok 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 Que sape se Ok 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 Vediamo se Figo anche questo Cioè che c'hai un Look like you've got a quite few At this rate we'll make a bottle of money It's no time Ok Brab Mi sembra che ho fatto una cazzata Mi sembra che ho discardato Ok Cobra Noi ci chiamo Cobra Dave Tell me That there would be somebody to help with the ingredients And who else is there for that but you Ok quindi noi dobbiamo pure aiutare qua Perfetto You can check your fish crops And all the other materials For now that's all you know Come back later for information Ok Ok Quindi cosa posso fare Questo costa 10 No costa 4 Però 10 Setting ingredient to auto supply will make things a bit more convenient Only food on the menu can be sold Ok Enhance the flavor of dishes Quindi possiamo Diciamo aumentare il sapore dei piatti Ok vediamo un attimino Togliamoci di mezzo questi Sono Più costosi Oh soft drinks Quindi possiamo fare un tè Ok Ok quindi dobbiamo Perfetto Ok quindi con il tasto destro Con la La tavetta destra Io posso riempire il Il tè Ok quindi lui cuoce No Ah cobra è il capo Sushi never use food We don't put for the guest Double twice Ok Ah quindi lo thrashiamo Va 3D Don't forget to press Y After filling the menu For business Ok perfetto Oh cazzo ho fatto uscire E quindi posso anche correre E quindi posso anche correre Ah devo premere il libro Ok è molto Devo Devo correre come un pazzo Oh cazzo ho fatto un pazzo Oh cazzo ho fatto un pazzo Oh cazzo ho fatto un pazzo Insomma quello che dobbiamo fare un pazzo Per risolvere il tutto E ci facciamo una birra A fine serata Not bad for every day Ok Stop is coming from you Compliment Un uomo non dovrebbe avere gratificazioni dai complimenti Un uomo non dovrebbe avere gratificazioni dai complimenti Mazzarola C'era un mostro tutta qua Bellissime animazioni Rispondiamo Arriviamo da ben Ok sei tu l'uomo che stava Vabbè Dai porca puttana Sì sì Vabbè nuotando Sì Voce spende more professional looking guy Anche body shaming Ci aspettavano più professionale Amelie Study biologist Local Quadradation school Come a te investigate A teraportarne Oh no Sottisfatto Ok adesso Sottisfatto di collegi Ci hanno chiesto Che cosa Cioè di prendere queste altre cose Get me Tuo vicio Perfetto Perfetto E ci daranno una ricompensa Perfetto Va bene Abbiamo anche Questo Abbiamo uno smartphone Vediamo un attimo Vediamo un attimo Che cos'è lo smartphone Ci abbiamo tutte le Chiamiamolo banco C'è un calendar Un calendar Non so Stavamo e scherzo Uh C'è un Qualcosa Sul fondo Anche Ho premuto y È uno scam Perfetto Music C'è l'album La calcolatrice Mini game Che non ci sono Setting Ovviamente l'italiano Se rincula Mai nessuno Perfetto E andiamo giù Ok Quindi dobbiamo andare Io direi di scendere Già Abbastanza In fondo Uh Abbiamo già preso Una cosa interessante C'è una pentola Lì Andiamo subito A prendere la pentola Che ne dite Aprendere la pentola Perchè non me la fa prendere? Ho preso la sala Ehi, questo è cattivo Ah, ti fotto io stronzo Ma questo pesce è un merda Ok, dobbiamo andare su Vabbè, però ce la facciamo Ah, ci hanno una pistola Questa è un po' E' un po' Ah, ci hanno una pistola Wow, cobra, è stato un po' Questa è un po' Guarda un po' Beh, vedo il professional dive People lie in the glass houses So, what about? Ok, andiamo al punto Mi servono delle pistole Sì, son tu, strastella Just ended, anyway Ok, si stava vedendo il nerdone di turno Actually, discord, affascina di gentlo Ok Quindi, lui ci da una pistola Vai su Enter the brewer Bring back rope And scrap iron Ok Dove prendere pure Red starfish Quindi Forse questo Perfetto Dai, prendo un altro Oh, c'è uno Ah, ok, quello ci ricarica Ah Ma, eh, era buggato Mesmo Adove Di Il Ma i gambaretti non li posso prendere Ok andiamo giù adesso Non so se Vediamo quanto si ricarica Ah e fa il pieno praticamente Oh guarda 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 Oh il pod Escape pod qua sotto è tanta roba Oh guarda Piacere Oh guarda Oh guarda and then keep me some time ok wrap your day ok perfetto nooo devo fare il menu ok ecco ho fatto non sapevo che cosa succedesse passiamo subito al livello successivo va beh proviamo ok 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 è stata un'altra giornata è stata un'altra giornata siamo a lunedì chi è questo ma ok 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 tutto perfetto quindi probabilmente c'è anche un'attività una sorta di atlantide 1500 anni fa però che c'è a che fare con me giustamente martirò questo è un 70 metri orso blu please get along ok ok risultare più ok vabbè ah quindi lui se troviamo quella cosa ci dà il diving suit ok allora vediamo un attimino abbiamo un'applicazione nuova che si chiama i diver che dobbiamo vedere e vediamo subito ah quindi ce l'ho subito per arrivare più in giù perfetto ok vediamo un attimo cazzo costa tantissimo allora upgrade perfetto adesso posso portare più chili find rope find scrap iron questo dobbiamo farlo perché ci darebbe la pistola mi piacerebbe in italiano perché sono sicuro che questi pesci sono per lo più reali quindi perlomeno in questa prima fase quello scrap iron chissà dove cazzo lo trovo legno ma però questo lo so dobbiamo scendere a 70 metri questi bastardi ok lì c'è un pod e abbiamo pure lo scrap iron però noi sennò questo qua sarà vero? ah ok c'è uno dei guanti chissà se lo posso prendere fuori di martellate questo non Porca di... No, non ho fatto niente Quanto cazzo ci mettiamo? No, non ho fatto niente Ok Skypod l'ho salvato Non ho fatto niente Ok Ok Allora Weapon chest No 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 Ciao Ciao Terranity Ok Ok Allora So che se devo così se trovo il pesce lo ammazzo perché magari... Banco qui Bancio panza Bancio panza Bancio panza Mister bancio Bancio suona meglio del banco Carina però Carina però Ok quindi questo qui Per alzarlo addirittura ce ne vuole un altro No 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 Ho sbagliato Vediamo un po' se possiamo... No Enhance Non lo posso fare Che devo fare? Questi si possono vendere Non lo posso comprare perché giustamente... Staff non ce l'ho, ricerca non ce l'ho, menu l'ho fatto Ma Direi di... Adesso si... Così mi sono anche riposato Non si sa mai Ah no ma non è partito allora Ok Ok No Quindi... Hanno fatto... Questo però ovviamente è per... rendere più... Persona lavora... Yoshi Spancho sushi Non posso comprare perché ho visto questo... Che è molto popolare Ok New food Usi Never before seen ingredients Non potremmo testare questo in qualsiasi E beh perché... Oh Mi... Menzionano anche me? No 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 In ogni caso What bring you all dear miss Yoshi? Vario... Con diverse ragioni Voglio... Voglio provare il personale... Il... Il ristorante Mi rifiuto di pensare che queste robe esistano... Vediamo un po' Per continuare a fare questo... Per continuare a fare questo... Terrible food World Roast Shack Edith Un... Excellent dish In Est Corea vero... Stop Ok va bene This is... Developed a bit sudden They... As a chef... Questo è un... Uno scontro... Che non posso... Che devo fare... Fondamentalmente... Ehm... Il mio... Il mio pride... Orgoglio... Ehm... Please get me a... White... Deep... Red... And... Olive oil Ok Take a good gun... Ok Quindi... Già adesso ti fanno combattere uno squalo... Quindi abbiamo... I special customer... Ok Ok... Quindi questo lo dovevamo fa' Ahah... Però non... Non abbiamo ancora lo squalo... Quindi... Ma se... Questo qua io non la posso servire... Farà una brutta... Ehm... Vabbè... Ehm... Vabbè... Non lo posso fa' Ma... Cazzo... Cazzo... Posso... Ok... Intanto... Iniziano i... Le cose positive... Lo staff... Non si sblocca ancora... Quindi... Poi dobbiamo trattare pure i wasabi... Che è quello vero... Eh... Ok... Ok... Abbiamo chiuso... E io direi... Ci fermiamo qui... E vediamo un attimino... E vediamo un attimino la prossima volta di prendere questo squalo... Ciao!